Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova analisi ciclica evoluta su Bitcoin. Mancano ormai due giorni a Larving e grazie a questa analisi capirete come ci si può muovere in maniera razionale. Ok? Allora, facciamo il punto della situazione. Ho provato in tutti i modi a smontare questa centratura, a farne una differente, a rivedere se i tempi potevano essere fatti in un altro modo, a trasformarla in un due tempi diverso e più corto, facendolo magari terminare qui. Niente da fare. Mi piacerebbe avere un qualche cosa di più bilanciato quando vedo un grafico ciclico, ma è così, c'è poco da fare. Bitcoin in questo caso fa veramente storia sé rispetto a determinati altri mercati, come i mercati europei e invece l'americano è un pochino più simile. Questo perché? Per il fatto che, comunque, vediamo un attimino le varie cose. Ovvero, quando si scende e si perde buona parte della capitalizzazione, si passa da 10.500 punti a 3.850, e quindi una perdita di oltre il 60% del valore dell'asset stesso, caspita, si entra in un bear market che significa rischio di prosecuzione a ribasso. Infatti, quando siamo approdati in quest'area qua, se andrete a tornare indietro, noterete che ci potranno essere delle analisi in cui dicevo, attenzione, perché si può iniziare a scendere giù anche forte. Invece ciò non è successo. E noi ce ne siamo accorti rapidamente quando abbiamo avuto questa candela che ha violato questo swing di massimo. questo massimo a 7.469, quindi estremamente rapidamente dopo una fase di lateralizzazione. Poi che cosa è successo? Eh, sono successe delle cose interessanti. Ovvero, dato che non si può scomporre in altro modo questo primo trimestrale, trimestrale inverso, attenzione, che lancia il nuovo T5 inverso e che è arrivato appunto a 77 barre e dato che abbiamo superato anche questo ritracciamento di Fibonacci, le considerazioni da farsi pre-Halving appunto sono varie. La prima, cosa serve a lanciare un secondo T-3 inverso, ovvero un secondo ciclo inverso trimestrale? Il primo è stato quello che è andato da questo massimo, è sceso di indice ed è arrivato a questo massimo. Ci serve perlomeno un sotto ciclo di due gradi inferiori tendenzialmente lateral rialzista. Ce l'abbiamo avuto? T più 3 meno due gradi inferiori, un T inverso lateral rialzista. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei candele mi bastano per avercelo. Poi la settima è già un di più, l'ottava mi va a volare il massimo, ovvero il minimo dell'inverso, e vincola tutto il secondo T più 3 inverso, tutto il secondo trimestrale inverso, che può durare anche soltanto 48 giorni, a ribasso, ovvero a rialzo per Bitcoin. Vi rendete conto che avevo un'informazione come ci può essere continuazione di rialzo per un intero mese ciclico, che può durare appunto minimo 48 giorni, e massimo 83, 84 sarebbe già esagerato. È un'informazione interessante? C'è però sempre un ma. Mediamente, dopo la chiusura di un ciclo, già appunto dal mensile in avanti, dal T più 1 in avanti, possono esserci dei raccordi. I raccordi sono finte, finte a ribasso, per poi tornare a rialzo entro un certo tempo. Quindi, bisognerà fare estremamente attenzione da lunedì in avanti. che questo non sia stato un raccordo prima di far partire il vero secondo T più 3 inverso, che ha sempre bisogno, perlomeno, di una discesa o lateralizzazione, o almeno di non violare il suo massimo, perché stiamo parlando di inverso, per almeno 6 candele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persino ne ha fatte. Con l'ottava appunto è andata in violazione e rialzo. Per cui potremmo dover ricominciare il conteggio da qui. E oltretutto, se non si muovesse nello stesso identico modo, ma si iniziasse a sparare giù e andasse per dire anche in violazione di questo minimo a 8.528, le cose cambierebbero decisamente. Per cui, attenzione, in questo momento, dovessi dare il miglior consiglio per come gestire l'alving, vi direi, se siete a mercato e state guadagnando, per sicurezza chiudete la posizione e fate altro. Togliete tutti i bitcoin che avete e fate altro. Se invece, anzi, questo perché? Perché è meglio non correre un rischio non necessario. Se il mercato, anzi, se bitcoin inizia a sparare verso il basso, non voglio essere quello che si prende, che trasforma un guadagno in una perdita, darebbe parecchio fastidio, ok? Non parlo ovviamente di Hodler e di tante altre cose. ricordiamoci solo che abbiamo sempre, appunto, possibilità contrastanti, anche soltanto a livello di cosa può succedere. Da quello che però vediamo dei grafici in questo momento, abbiamo che qui stiamo rischiando, tra virgolette, di andare in Golden Cross e quindi di continuare a dare slancio alla salita, che appunto, essendo partito da qui, secondo t più tre inverso, secondo trimestrale inverso, ed essendoci già vincolato a ribasso, se non è un raccordo, darà altri rialzi e arriveremo oltre il target dato nelle precedenti analisi di 10.500 che è già stato sfiorato con i 10.74 non proprio sfiorato. Sembra molto piccolo il grafico, ecco perché appunto comunque siamo andati ben in alto rispetto a altri che dicevano che invece saremmo andati in discesa, altri trader. Però, come detto, attenzione, due incognite molto grosse, raccordo, quindi finta, oppure partenza di t più tre inverso. Seconda cosa, Alvin, ovvero, il suggerimento è, in questo momento, se state guadagnando, uscite, aspettate a vedere che cosa succede lunedì e poi muovetevi di conseguenza, sempre con la ciclica e voluta, per cui, da lunedì farò il prossimo aggiornamento. Ultimissima cosa, inverso, anzi, visto l'inverso che era la parte più interessante perché sparava su bene, guardiamo anche il nostro secondo t più due. Il secondo t più due, come avete visto, è arrivato a 24 giorni e come lo andiamo a scomporre anche in questo caso? Lo andiamo a scomporre in questo modo. Qui faccio già gli aggiornamenti proprio in tempo reale. abbiamo questo primo t meno t settimanale strano per cui appunto sono stato di nuovo uno dei pochi aderbi che si continuava a salire da questo punto in avanti a 8 barre. Il secondo t settimanale è arrivato a 7 barre. poi che cosa è successo? Abbiamo avuto 1, 2, 3, 4 barre sospette perché di nuovo abbastanza vicine l'uno e l'altro ma nella realtà dei fatti comunque in ogni caso possiamo dare per partito un secondo t più 1 che è arrivato in questo momento a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candele. e tutto torna in questo momento. Tutto torna perfettamente non ci sono durate strane non ci sono cose particolari questo è quanto per cui suggerimento più in assoluto più più corretto da darvi è non prendete rischi non necessari state fuori prima dell'alving dopo l'alving avrete un vantaggio competitivo enorme rispetto a chi c'era invece rimasto dentro magari appunto rischiando di andare a prendere una posizione che è tornata in perdita rispetto a quello che aveva. Se l'analisi vi è piaciuta vi chiedo di mettere gentilmente un like sotto l'analisi stessa di eventualmente se vi interessa sottoscrivere il canale col mio nome e cliccare sulla campanellina per sapere prima di tutti gli altri quando una nuova analisi è stata fatta in questo modo sarete sempre informati ricordatevi che prima di arrivare a questa centratura magari io rifaccio i conti e rifaccio i controlli per un'ora due ore mezz'ora ricontrollo su vari time frame questo è tutto lavoro che voi non vedete ma che richiede tanto tempo per cui per dare un piccolo contentino eventualmente o un piccolo ringraziamento a chi mette tutto questo lavoro gratuitamente a disposizione penso che una pacca sulla spalla possa essere proprio effettivamente il minimo vi ringrazio e vi auguro un buon weekend il mio sarà fantastico grazie a tutti